perché è una forza e noi come singoli riusciamo a fare poco a muoverci poco almeno sul territorio ecco ambasciatori è una forza una forza enorme fatta da una miriade di imprenditori di artigiani del food e di professionisti della ristorazione ecco con la forza di ambasciatori del gusto ci facciamo sentire e conoscere nel mondo non voglio fare delle comparanze non è diversa ne faccio parte ne sono veramente orgoglioso perché è unica in poco tempo realizza ciò che abbiamo pensato durante i convegni e l'unicità ecco perché io faccio parte di questa associazione perché è unica non va in comparazione e realistica e operativa e ne sono molto onorato non solo come chef ma come imprenditore come professionista